Antonio Peronini, amministratore unico di arte. Allora, un'arte, l'ex case popolari, per capirci che è partita con un deficit pesantissimo, oltre 2 milioni di euro, siete risaliti non solo a recuperare, a pareggiare, ma anche andare inutile, con interventi anche di ristrutturazione, progetti e così. Sì, assolutamente. Abbiamo fatto un piano di ristrutturazione basato sulla lotta all'amorosità, sull'andare a efficientare la macchina organizzativa, quindi con dei risparmi sulle spese del personale, andare a utilizzare tutte le risorse che avevamo, quindi andare a allocare tutti gli immobili che erano sfitti in modo da cercare di ripianare le perdite anche pregresse. La Regione Liguria ci ha dato una mano perché ci ha triplicato i contributi che dava storicamente, quindi in questo modo siamo riusciti a riequilibrare un bilancio e ad avere anche le risorse finanziarie per poter partecipare a nuovi bandi, sia di ristrutturazione che di nuove costruzioni di alloggi popolari. Anche efficientamento energetico nelle vecchie costruzioni, quindi anche lì andare a cercare risparmio e anche un po' di ecologia, di ambiente che male non fa? Ma sicuramente, ristrutturare l'esistente, non costruire, costruire il meno possibile nuove edifici e come giustamente diceva lei andare a puntare sul risparmio energetico, sull'ecologia, anche perché per i nostri assegnatari, per i nostri inquilini spesso pagare bollette anche che per noi potrebbero essere basse è un problema e quindi questo è un intervento che ha una duplice valenza, come diceva lei ecologico ma anche di risparmio per il nostro inquilinato. Mi correga se sbaglio, sono 1.500 gli alloggi che gestite oggi in provincia d'Imperia ma ci sono circa 750 persone che attendono ancora di poter avere una casa popolare. Presto, nuovi bandi? Sicuramente, i nuovi bandi, mi impegno personalmente nei prossimi 12 mesi a far uscire i bandi per tutta la provincia in modo da dare una risposta a chi sta aspettando. In più stiamo cercando, con molte difficoltà, però stiamo cercando di creare nuovi alloggi. Io credo che nei prossimi due anni riusciremo a realizzare o a comprare sul mercato ancora meglio una centinaia di alloggi in modo da ampliare la platea di quelli che potranno beneficiare di una casa carone agevolato.